Amici benvenuti ad un nuovo appuntamento di modelli di successo, il progetto serio ed etico che analizza i modelli comportamentali delle persone di successo al fine di promuovere nuove e stimolanti azioni in grado di migliorare i nostri risultati nella vita e nel business. Vi ricordo che i pattern comportamentali di cui parliamo ed utili al conseguimento dei vostri obiettivi sono cose da fare, cose da ricordare, caratteristiche, principi, azioni, modi di pensare estrapolate dalle personalità analizzate nel progetto di ricerca sui modelli di successo. Questa puntata è tratta dalla serie inedita via email discorsi settimanali, nelle prossime settimane e per i fruitori dei podcast e dei video di modelli di successo pubblicheremo le puntate più vecchie di questa serie. Se invece volete ricevere le puntate inedite iscrivetevi all'indirizzo modellidisuccesso.com slash news. Un piccolo annuncio prima di iniziare, stiamo vagliando la possibilità di organizzare un tour di meetup per aprire un canale di comunicazione diretto con tutti coloro che seguono il progetto sui modelli di successo. Se siete interessati a partecipare ad uno di questi possibili meetup o trovate quest'idea interessante, iscrivetevi alla lista di attesa che abbiamo creato e che trovate all'indirizzo modellidisuccesso.com slash meetup. Così facendo ci darete modo di valutare la fattibilità di quella che pensiamo sia una bella iniziativa da portare avanti nel tempo. Dunque iniziamo questa puntata col definire la procrastinazione. Secondo il Wikidizionario la procrastinazione è rimandare al domani con lo scopo di temporeggiare o addirittura di non fare ciò che si dovrebbe. Tutti nella vita chi più chi meno abbiamo subito il subdolo fascino della procrastinazione. Quel falso senso di sicurezza che ci dice che possiamo rimandare la cosa che dovremmo fare tanto non succederà nulla. Ciò che la procrastinazione non ci dice è che a furia di rimandare le cose, specie quelle importanti, si finisce col non farle più con tutte le cose specievoli e a tratti gravi che questo comporta, in primis il rimpianto. La procrastinazione è la causa che crea più fallimenti, per così dire, di tutte le altre abitudini negative messe insieme. Sono procrastinatori incalliti coloro che aspettano il momento perfetto e che, per timore, continuano ad aspettare a vita inconsapevoli o forse no del fatto che tale momento non arriverà mai. Dietro la procrastinazione si possono nascondere tante altre cose, in primis la paura di agire e delle conseguenze delle nostre azioni, oppure la semplice e pura pigrizia. Il discorso è che la procrastinazione è quell'elemento che genera il più potente dei rimpianti, perché non vi è un reale impedimento nell'agire, ma siamo noi stessi che, procrastinando appunto, ci autosabotiamo, lasciando che i nostri sogni rimangano solo sogni. La procrastinazione è un meccanismo potente, ma vi è un rimedio semplice ed efficace per contrastarla. Partiamo dal fatto che quando procrastiniamo noi non facciamo altro che rimandare l'inizio di una certa cosa. Per una qualche ragione tendiamo a rimandare quello specifico momento iniziale. Generalmente tali ragioni sono connesse al fatto che la nostra mente tende ad evitare con tutti i mezzi possibili il dolore e a ricercare con tutti i mezzi possibili il piacere. In questa chiave di il dolore è rappresentato dal fare la cosa che dobbiamo fare e il piacere è rappresentato da quel falso senso di libertà che la procrastinazione ci offre rimandando ciò che dobbiamo fare. È chiaro ed evidente che quel senso di sicurezza e libertà che ci offre la procrastinazione è totalmente illusorio e che i danni derivanti dal procrastinare sono devastanti, specie sul lungo periodo. Tuttavia esiste un semplice ed efficace mezzo per contrastare la procrastinazione ed è la regola dei 15 minuti di Carolyn Buchanan. La regola dei 15 minuti è un metodo altamente performante a prova dei procrastinatori più incalliti che consente di concentrare l'azione ed il focus sulla cosa che dobbiamo fare e che tendiamo a rimandare costantemente e farlo per appena 15 minuti alla volta. La genialità di questo metodo sta nel fatto che tutti siamo capaci di concentrarci nel fare una cosa per almeno 15 minuti. Sono gli effetti di questo processo il vero cuore del metodo nonché una cura alla procrastinazione. Infatti sapendo che dobbiamo concentrare i nostri sforzi sulla cosa che sappiamo di dover fare per un tempo così limitato vi è un abbattimento dello stress dovuto al pensiero di iniziare quella cosa rimandata da troppo tempo e un elemento ancora più importante si passa da uno stato di immobilità ad uno stato di immobilità. In parole semplici le cose si iniziano a fare e come dice il detto chi inizia è a metà dell'opera e lo è davvero. Vediamo come impiegare questa regola nella nostra vita quotidiana. La regola dei 15 minuti si compone di sei fasi eccole. Fase 1 ispirazione. In questa fase Carolyn consiglia di copiare ed incollare la seguente eccitazione in modo tale da averla sempre sotto gli occhi. Qualunque cosa tu possa fare o sognare di poter fare incominciala. L'audacia porta in sé genio forza e magia. Incomincia adesso. Fase 2 visualizzazione. Chiudete gli occhi e visualizzate l'obiettivo come raggiunto. Questo elemento è un classico della visualizzazione creativa. Cercate anche di associare però a quella visualizzazione le relative emozioni e tutti i sensi. Scrivete il vostro obiettivo su un supporto cartaceo magari un quaderno comprato proprio per i vostri obiettivi. Fase 3 pianificazione. Pianificate un momento preciso nei prossimi tre giorni in cui ritagliarvi i vostri 15 minuti. Potrebbe essere in questo preciso momento oppure più tardi o ancora domani. In ogni caso pianificate uno slot temporale di 15 minuti entro le prossime 72 ore. Fase 4 preparazione. Preparatevi mentalmente. Trovate nuovamente ispirazione e motivazione ascoltando questo podcast o rivedendo questo video oppure ricordando che con questo metodo state cambiando la vostra vita e realizzando i vostri obiettivi. Ricordate non è importante quanto al giorno potete lavorare ai vostri obiettivi ma piuttosto il fatto di lavorarci costantemente. Meglio poco ogni giorno che tanto mai. Fase 5 la regola in azione. Non appena arriva il momento pianificato nella fase precedente iniziate. Impostate un timer sul vostro cellulare oppure avviate il cronometro sul vostro orologio e partite. Come dice Carolyn, quei 15 minuti comprenderanno tutto. Ad esempio accendere il computer e attendere che vengano caricati i programmi mentre vi metterete seduti. Evitate di farvi un tè durante questa sessione. Concentratevi su quello che dovete fare. Evitate ogni tipo di distrazione a meno che non si tratti di emergenze e continuate semplicemente a ragionarci sopra. Fate qualunque cosa vi sia di aiuto per riuscire a raggiungere un punto di partenza. Quando saranno scaduti i 15 minuti fermatevi. Attenetevi al limite di tempo che avete prefissato. Questo vi servirà a darvi l'importante messaggio che potete fidarvi di voi stessi. Avevate detto 15 minuti e 15 minuti saranno. Sarà anche più facile tornare al progetto se lo avrete interrotto mentre vi sentivate entusiasti e probabilmente avrete voglia di dedicarvi più tempo. Quando avrete finito molto probabilmente vi sentirete molto meglio di come vi sentivate soltanto un quarto d'ora prima. A questo punto assaporate l'esperienza e godetevi ogni istante di quanto avete conquistato. Crogiolatevi in quell'istante di gratificazione. Una volta che avrete compreso il meccanismo della regola dei 15 minuti potrete modificarla a vostro piacimento. Ma non correte prima di aver imparato a camminare. Dopo la prima sessione vi suggerisco di affrontare le successive due sessioni di 15 minuti nel giro dei successivi tre giorni. Sarete sicuramente in grado di gestire tre sessioni di 15 minuti nel giro di 72 ore. Certamente avete il permesso fra virgolette di dedicare più di quel lasso di tempo al vostro progetto ma soltanto se ne state traendo qualcosa di veramente significativo. Nel momento in cui vi sentirete bloccati o annoiati tornate subito alla regola dei 15 minuti e attenetevi ad essa finché non avvertirete l'impazienza di ricominciare. Fase 6 ricompensa. Per ogni sessione di 15 minuti completata correttamente ricompensatevi. Datevi una pacca sulla spalla. Fatevi complimenti o mangiate un pezzo del vostro cibo preferito. Create una lista delle possibili ricompense e ogni volta che terminate i vostri 15 minuti ricompensatevi. Questa metodologia della ricompensa è chiamata rinforzo positivo in quanto mentalmente non fate altro che associare all'azione compiuta cioè l'aver portato a termine correttamente i 15 minuti una gratificazione sensoriale che non fa altro che aiutarvi a portare a termine ancora quell'azione però con più facilità. Perché la regola dei 15 minuti funziona? Perché si tratta di focalizzare l'attenzione e sgombrare la mente in favore della cosa che sapete di dover fare ma che state rimandando. Uno degli effetti di questa metodologia è quello di far comprendere alla vostra mente che non vi è nulla da temere in merito alle cose che dovete fare e che potete farle dedicandoci davvero poco tempo. I procrastinatori incalliti in genere sono dipendenti dalla gratificazione immediata quindi questa regola consente di dar loro proprio ciò che cercano gratificazione immediata derivante dall'aver portato a termine qualcosa. Quando vi dedicherete alle questioni che dovete affrontare per la prima sessione di 15 minuti la seconda la terza e tutte quelle successive saranno praticamente inevitabili. E così passo dopo passo sessione dopo sessione col tempo vi ritroverete ad aver raggiunto anche obiettivi molto importanti poiché come dice l'antico detto un viaggio di mille miglia comincia con un singolo passo. Bene siamo giunti alla fine di questo video e mi raccomando se vi è piaciuto pollice in su e iscrivetevi al canale sia di youtube sia dei podcast per ricevere i nuovi modelli di successo. Ciao e alla prossima!